Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake soffice al latte e miele. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, lievito per dolci, uova, zucchero, latte, olio di semi, vanillina, miele e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, le uova e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Aggiungere il latte, l'olio ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Aggiungere il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina, la fecola, il lievito e il sale. ed azioniamo il bimbi per 1 minuto a velocità 4. Il composto è pronto. Versarlo in uno stampo da plum cake di 28 x 10 cm ben imburrato. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Plum cake soffice al latte e miele. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!